Pronto? Ciao gente, io sono Zeriel e come sapete, e se non lo sapete molto male, oltre a questo canale, gestisco anche il canale della webserie Strips. Siccome ho aperto da poco questo canale, mi sembrava un'idea carina... Un'idea carina, va a cagare! ...a farvi vedere questo video che racchiude gli eventi più significativi ai quali ho partecipato come ideatore e produttore esecutivo della webserie Strips. Questo After Movie lo dedico a tutte le persone che vedrete rappresentate nel video, i miei compagni di viaggio senza i quali Strips non esisterebbe e che mi hanno accompagnato in questa fantastica avventura. Naturalmente spero di incontrare anche tutti voi che mi seguite ai prossimi incontri e nulla, buona visione! Grazie! 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 Grazie a tutti 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 E l'altro è un po' un tutto E l'altro invece che racchiude un po' tutti gli eventi del 2015 in un unico Cosmo Music Video Prima di concludere mi ha portato un po' 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 concludiamo il video e potete anche comprare questi cuscini ma giusto potrete comprare i cuscini del cosplay coffee e facciamo sempre i disegni e ti possiamo fare i baffetti sopra esatto cuscini che trovate in tutti i video di jace ma sei dato troppo spam però e vieni a fare spammi nel mio canale stavo facendo un sacco di pubblicità per le tessi cosi e adesso non saprei che altro dirvi se non alle vanderesse